vanno fino al bar stai ben messo stai ben messo e poi che sto questi sono solo per di tempo bene, Irene e Ida iscritti? si ti dimentica a posto ti dimentica la t 87? no, per me puoi anche avere ancora c'era portavia San Gennaro con calma oggi che hai pensato? scusami scusami e la ragazza scusa tu vai 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 ok scusa scusa la parete scusa la parete ma cammina non è molto rilassante non è molto rilassante tu stai notando sai sai come sto? e ma Maurizio cosa hai venuto? scusa è meglio che sei al centro scusa no veramente infatti però analisi cliniche ok sono tutti fai migliori eh buongiorno fanno ad assaggiare la fine no no non c'è una scheda quale è la scala? non c'è una scheda io abito ma ai piazza di nostri sedi anche con i cani nomi dei candidati così ok lo diamo lo diamo signora prego vieni da una pelle allora ma che si fa no, io non lo so, si ammangiano la cosa io la vino non so a piedi a te, tu vuole la cosa va bene, allora puoi andare a fare anche il pezzo di massamento su maschera di domanda io ho dovuto poter fare, no? è quando avrai vicino